vabbè, intanto chi comincia chi va? metti, metti chi piglia dalle no sole? allora, alleghi sempre, Max così fa perdere anche la Roma non c'è De Rossi perché non c'è De Rossi? non era inizio campionato un allenatore eh quanto vuoi sentire se sentite l'album? io amo la Roma io amo la Roma voglio la Roma voglio la Roma voglio la Roma voglio la Roma sentite che cazzo voglio la Roma ciao ragazzi ciao oh Marco voglio la Roma tagli Roma tagli nooo Roma tagli e venne ha deciso Marco di mettere la Roma forzare l'album forzare l'album forzare l'album forzare l'album forzare l'album signore e signori è con grande piacere che vi presento il nuovo allenatore ci sente mi sa si va abbassato è abbassato no appena vai in impostazione si sente un cassino della madonna no da lì da lì no qui si sente il fatto che dice vai in impostazione va in impostazione allenatore di MMM allenatore di MMM obiettivo programma io non ci gioco mai aspetta questione squadra impostazioni durata tempo 20 minuti cos'è durata tempo 20 minuti è tantissimo bravo meno e io farei così bravo ci mi metterò i 5 si fa prima adesso un po' un po' bravo e poi però c'era anche che è vai leggi bravo bravo non risolvo il controllo va bene in impostazione ecco non si è andata a parametri no vabbè audio non c'era più nulla vabbè proviamo se si attaccano lo so si riprova vai vediamo la nostra squadra abbiamo un difensore buono cominci a vendere quelli tanto la Roma la conosci no? ma? ma? e poi non mi torno perché qui li sto qua li stanno lo mettono in campo ma nella realtà svilare sta giocando titolare ecco perché ma tanto il primo avuto di uno campionato è il portiere ecco lo dico pellegrini nelle riserve smulling nelle riserve ma non so ci vuole un piccolo aiuto qua è perché nella realtà è infortunato capito? questo è reale ma stanno male no non di capire non di capire non di capire allora tutti questi sotto tutti mettiti in vendita no come ti permetti a dirmi no colui che ti ha dato la vita te la potrò dire non c'è senso sapere spero di no perché c'è un microfono io non c'è ma noi ci abbiamo impresso Angelino e io niente sì è in prestito dalla premia no dalla Germania Germania sì in questa squadra con le ali e io ero in Inghilterra no la culla l'arrivò io richiamo ah vabbè perché l'ho richiamata schifo a me non lo vendo vabbè ma se non fa ma ma Christian se non perché 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 l'arrivò mi chiamano a giocatore schifo per confondere gli avversari anche Renato Sanchez abbiamo chiesto hanno chiesto pesilli pesilli credo che pesilli no pesilla I do so pecky you pecky my mom schifo chiamano ma 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 l'unico è in prestito c'era una cosa in prestito ma addio ma perché ok ora ti controllo l'ora che ho finito di spingere si aprono vendolo abbiamo già speso 2 milioni speso come speso per riprendere i giocatori ma perché che cavolo stai facendo che tasso è allora l'idea nostra mi sembra questa ma ma che fa che no non gioco più cosa stai facendo ah no questa allora l'idea l'idea nostra ma se c'è oh Elisa ciao ciao canta io canto e si canto mi guardo allo specchio faccio le gliocola allora non ci grazie per avermi detto ci servono soldi ci servono soldi ci servono soldi ci servono con chi sta parlando con chi stai grossi c'è un timorale li stanno uccidendo allora ci danno 13 milioni si 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 ma allora non si alza non fare le trattative avviscono no 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 non fare le trattative no 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 è esageratissimo è esageratissimo si chi abbiamo la sbia card card si roved up poi però oggi per 20 milioni si perché l'ha comprato nella realtà della Fiorentina senza aver perso no ma per 17 milioni no ma dai è troppo proprio vero 23 è un bel numero grazie abbiamo già preso 40 milioni allora mentre tu continua a fare trattative l'idea è questa vendere un bel po comprare 2-3 giocatori in arcini che ci servono e provare a vincere l'Europa League con la Roma magari non si vince il campionato ma almeno non possibile ci compri un pochino e baffetto eh magari si 20 milioni in mano oh ma stavo a svendere l'uomo oh esa altro 2-3 giocatori per 2 milioni e 4 no stiamo provando a far vincere la Roma no no questa offerta no 2 milioni e 4 per un'impatrice almeno 3 ti devi andare no dopo tu devi andare a trovare un portiere non è che si 1 milione per Pagano pagamo accetto poi è possibile che alla fine non li vendiamo perché forse i giocatori dicono ci dà il milione troppo 4 sono tornato oh è il Marchito Cico Marco stiamo provando Marco non mi torna una cosa non è il Cico Marchito ah è diventato il campione del calcio prima di Rocket League ma del calcio allora stiamo provando a far vincere alla Roma l'Europa League e in caso in onore al Serebola Coppa a Tenge Tenge è disperato ciao guarda ma perché c'ha la borsa poi da dottore perché perché c'ha la dottore cioè ti parla uno zaino il calciatore cos'è quella borsa guarda è da dottore grazie il giocatore che ti servono di ruolo e te lo dico vuole sapere i giocatori che ti servono di ruolo allora portiere ci devi dare una bella idea un buon portiere che non costa tanto Scuruspi no a parte un credito sia a questi livelli però qualcosa di anche peggio cioè per me ci potrebbero anche trovare a comprare a Sommer con i soldi che abbiamo capo e lotti durata sei mesi la tua avventura alla Roma l'Uni l'Uni molto giovane ma noi dobbiamo vincere subito scusami non è che dobbiamo aprire una scuola asilo calcio le real madrid ah le real madrid è che è titolare lui? no credo tengono curto credo 24 anni ho capito ma noi dobbiamo vincere subito questo non si sta manco non si sta neanche quanto è forte no no abbiamo soldi vai vai cosa ci abbiamo 120 milioni 120 milioni mi confondo perché qua hai fatto un po' il tuo belotti ciao 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 ecco allora 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 dici 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 marchito se lo sarebbe a Riccardo Pagano 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 vuol dire che non è credente Pagano ok oh quello è altro come? crede si altro oh tu vai a scuola bove hai venuto bove a Firenze emiliano martinez che è del genoa no ha vinto con l'argentino ah quel martinez sì pellegrini per 50 milioni ho anche poca voce quindi oggi che mi farà pellegrini a quanto lo potremmo vare pellegrini che mi viene però non può ha venduto a sto villa sei un pazzo allora se lo vendilo divente a una cifra è un po' 50 milioni sì no perché a pellegrini no a parte ti dirà di no penso che 80 milioni te le vende 70 cifra non te ne c'è uno non lo accetta no 50 milioni la pellegrini è forte è forte gli interisti è una stonvilla è fortissimo avram ah gli arabi lo facevano vendere un botto però non troppo perché non esagevano non esagevano è una bella cifra andiamo rune no 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 non te l'accetta oh ma a proposito che stanno a fare David non lo sto guardando andiamo rune contro se le sime sì vi amo arabi vi voglio bene arabi bravi arabi tenghe tenghe alza le cifre che ho bisogno la stanza non mi più no il miller martini sì io lo comprerò sai che potremmo provare Paolino per 100 milioni al terzo sono arrivati bobo mi sa che sì stavolta ci fa le penne di bala però io farò un'altra cosa allora richiediamo un giocatore che vale anche 60 milioni ma no guarda Hank Minson ok gli avevo chiesto c'erano 50 milioni vorrei vedere ma di bala non si tocca il primo sinnero il secondo rune aia eppure dovrebbe essere se è come si è detto io che David ora dovrebbe un po' crollare rune forse rimarda martinez che comi ci piace ci piace ci piace io partirei da lui oh Pinkas Pinkas stiamo provando a far vincere alla Roma buon pomeriggio anche Mariella oh sta 50 milioni oggi vogliamo fare un'impresa di far vincere l'Europa League dalla Roma cosa vuole quanto vuole quanto vuole no io ci abbiamo tanti soldi oh stiamo vendendo 70 milioni eh eh e loro vogliono 40 milioni e più apro eh ma il portiere ci vuole è forte no se non compri il portiere bono non vincerà mai secondo me 60 milioni è contento sì eccolo ha citato sì 60 milioni ci ha chiesto ok guarda dobbiamo trattare ah già ma questo c'è perché c'è 4 pere no dai un altro giocatore no stai hard cosa dobbiamo trattare ok grado real sì perché ha 30 sì numero più fello migliora eh non so quanto prendeva 70 mila 71 mila va bene 100 per un milione per mille oh il primo tassello è stato fatto ma io vedi se si può prendere 60 milioni truffatore bambino truffatore ma tu già parti con lukato e di bala quindi il legge dei carri di acquisti fai 4 te 3 tu prepari come il martinez perché è nato la sette e io mi remette di bala a sinistra lukako centrale no perché è fuori ruolo adesso è fuori ruolo e fammelo 4 se lo mettessero sarebbe meno 8 allora 3 4 1 2 no va bene così questa era la formazione di Merigno che ha perso tutte le partite allora fammi ragionare bisogna vendere l'Oriente e prendere un centrale breve vale 100 milioni tenghe tenghe darci qualche nome martinez è stata una bella trovata che si vende non c'era più nessuno che possiamo mettere in vendita no eh tenghe tenghe si è morto il nostro procuratore tenghe tenghe ruolo ruolo difensore centrale dc bello eh ma che non ci spendono 100 milioni se è morto c'era tra poi in pizzeria di rotelle 50 milioni e 4 ho venduto con quelli patrici a 3 milioni va bene ok ci penso pensaci con bulla buono 10 milioni con bulla buono kunde kunde ci sta è francese in spagna ma chi è questo è il nostro reclattore ah Zelensky è giovane no l'ha venduto l'ha venduto 15 milioni vogliamo tanti si veduto Adam vedi tu volevi dare Abram più 40 milioni e noi abbiamo preso 40 milioni ma io non l'avevo inserito Abram tu l'avevi inserito no l'aveva chiesto lui l'aveva chiesto lui Abram perché sapeva che lo stavamo vendendo un bel po' ARABI HA HA ESCHA RAVI a me va bene si 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 però anche perché ESCHA RAVI non lo usi più io lo metto nel 3 4 3 non lo usi più vabbè diciamo lui patrici l'ho venduto questi qui sono tutti già vendita tutti si ok dica vedi arrivati torno al dica no che cavolo 78 che ci fai da soppressata eh ma se no quella con chi dovremmo rifare baldanti ah vedi qua però poi c'è questo che è più scarso e poi questo è meglio più difficile sono tutte e due 4 stelle proviamo a prendere con D proviamo a prendere con D già avesse difensore e portiere poi bisogna aprire un bel centrocappista portiere e sbilare si si sbilare potesse andarsi a fare le pannocchie oh 12 milioni più un giocatore da 9 milioni è un 74 però io non cambierei in un difensore non ci staranno mai che è sto moccando per me io che ne ho io che ne ho io che ne ho io che ne ho la contaglia vada 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 stai scherzato? vediamo se è forte vediamo se è forte questo che sta contando bravo che sta succedendo prima di fare la trattativa? no senti amico mio finora è a fare pananine a vendere pananine due anni che trovo fate gli ha dato? che sei pazzo quattro anni a questa scavorza ma come? è ridicolo porca miseria è assaltato non so come perché ce la schifo ma che è pazzo voleva ma che voleva se si sono di Martinez vai 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 da conde chi è che è in datoria? mi sa conoscendo un po' ok ecco sono muro dove so 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 muro dove l'hai preso con te va ora cercarlo con te 24 anni 85 non è male scusa c'è una clause di 147 milioni è impossibile è impossibile ma volo a più basso qualcosa di meno questo minimo ti chiede 100 milioni 69 è il valore niente provi a vedere quanto vale ancora lo sto esagerando non ho capito che state facendo troppi soldi faccina con la prima di gioia no allora ti spiego Mariella giustamente allora questa è la carriera vedi quanto prova dai prova no no allora abbiamo preso una squadra medio-bassa che è la Roma proviamo a vendere quasi tutti i giocatori in faccassa e poi la sistemiamo con due o tre giocatori 84 è forte facendo un po' di cassa e poi due o tre giocatori buoni e vogliamo provare a vincere o la Coppa Italia o l'Europa League perché la Roma non è che può vincere il campionato no questo è il tentativo non sono trattativo chiuso vorrebbe 87 milioni ma iniziamo la trattativa immaginavo in quanto erano sopporti 5 scendiamo 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 insieme appena va ad una settembre sì santo abbiamo speso scusami tra scusami 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 si fanno fuori come è successo l ma non era 120 milioni ha speso da Roma oh 3 anni noi ti vogliamo noi ti vogliamo vada che più uomenti anni più chiede soldi a 80 mila di stipendi ma come? hai visto? guarda meglio così ci buttavano fuori ci buttavano fuori fidati di me perché ci hanno buttato fuori per la cebbra a noi no qualcosa di più basso bastoni chi vuoi bastoni chi vuoi bastoni? scusa? a te bastoni no fa schifo non compriamo nessuno non ce l'abbiamo 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 poi stiamo sistemando la Fiorentina a scuola ci stanno gli hai dato po' ok gli hai dato e lasciar avanti non ha preso questi soldi la Fiorentina vabbè buono celico vai celico guarda che bella capellinica vado a legger come la scorta come fosse lì scorta sono leschi ok 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 io ti ho detto un po' ci licenza non è ti dico la verità ok oh ma eh Tenghi Tenghi dove hai andato a fabbricarci i nomi? eh dici un nome bastoni se lo deve ma con chi sei a fare la trattazione? sì è lo scambio che ha fatto con Zaleschi? c'è uno oh serpi eh ma quant'anni ti vedevo ci sono ci sono ci sono ci sono che bello stefano che vuole che bello stefano che vuole 6 milioni ma chi è questo? lo diventeremo subito sì pisilli ma chi abbiamo uno? si chiama piselli? che cavolo cristante per 40 milioni braccio il tuo campo? che rabbia e chi c'hai? non esagerare sono al lavoro faccina disperata faccina disperata ma quanto lavori? ma quanti soldi vuoi fare? mannaggia a te 40 milioni faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia oggi c'ho anche tutte le fredure sul calcio eh si si fa calcio ah! unicolo pisilli per 660 mila tenete ah no quanto è? quanto è? che cavolo? pisilli pisilli oh già c'è la tornella pisilli 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 chi sei lì? chi sei lì? chi sei lì? ma ci abbiamo 5 o 3 milioni che compriamo? credo che ci stiano ma ci serve un un walker di soldi bicipite carnagione chiara bicipite passa pochissime carnagione chiara tanto io faccio tanto la carriera so tutti che sono buoni i soldi i soldi vuoi fa sordi walker ci lo vendono a 19 barro 20 milioni che vinciau faccina che manda un bacio il solito si dice così sordi eh? sordi vuoi fa sordi eh? ciao si sordi eh? mi sento sordi 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 serpie c'ho anche la voce che sta andando ma da quando ci abbiamo parato signora? dai lo vai no come no? oh e te l'hai risuscitato anche te che cosa ne si chiede? io ho detto io e allora abbiamo deciso che ci voglio vedere qualcosa io e Mark dopo portiamo il telefono giochiamo insieme a pressa l'ho deciso perchè anche lui viene a fare il sceno capito? lo sai dove sta andando la tua mamma? Sta andando a fare Chi Gaidanner 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 Oh a proposito Oh Stambo Io sto aspettando Stambo Gaidanner Io non so che cosa Prendi CPS Vai sulle squadre No c'ho un'idea io Tu morì No Vai su tu morì No voglio incendere un peso Sì Bellino Te lo danno a te Perché si bevita Ah no Comunque Sera Io sto aspettando Ormai sono diventato lombardo Lombardo Sera io sto aspettando Sul PS5 Sinceramente Tu Stambo Ma quando cavolo esce Che voglio fare Dicembre Stai aspettando Per te che vi infaccina Soleridente Non c'è tu morì Come si scrive tu morì papà Pausia Grazie Papà ma come si scrive Tu morì Tu morì Tu morì Tu morì Se devi prendere difensore fallo per il meme Se devi prendere difensore fallo per il meme Che significa Ah non lo so Io ho la due faccina disperata Faccina disperata Camavinga Camavinga Prendi Camavinga Camavinga Scusami Ser Pierre c'è ancora la Playstation 2 Ma Sei il picchi tie runner Vedete che c'è il denaro Ma tu perché vai lì Ehm Scorta Ser Ma tu è la macchina Tu è la macchina che quando esce Fai Yabadabadu Yabadabadu Yabadadadu E' la fammina Yabadabadu Senti vai a cercare Sulla serie Guarda c'abbiamo paredes Vai a cercare la serie Pisini Cerca la serie Bambola 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 Allora Lo faremo anche per Non c'ha sordi per comprare Camavinga Ci buttano fuori a zampare Neri di l'era Cioè Se no ti facciamo fare Posto neanche a urlare Che non ho più la voce Comunque Per Ausilia Dobbiamo vincere l'Europa League Allora Ausilia Ce n'è se è buono Certo che è buona C'è bisogno di cittadini di pensare Sì 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 Io lo voglio di sei Io lo voglio di sei L'ho cambiato da cinque a sei Ma come costa pochissimo Tanta milioni Ascolta La nonna E Mattia Vuole una fessura Una freddura Ausilia ha appena finanziato Per vincere l'Europa League Quindi dobbiamo vincere l'Europa League E se la perdiamo? Eh? Oh mi vuole Mi fido di te Allora Mattia Sì Walker Faccina con la crime di gioia Faccina con la crime di gioia Fessura Come si chiama il portiere più imbattuto Del calcio giapponese? Tu tiri io paro Tu tiri io paro Va bene Mattia Questa qua Non voglio spoilerare quella tua che hai detto Guarda che squadra Guarda che squadra Guarda che squadra Eh Eh Ma Walker dov'è? Ah ma è un terzino Walker Eh Io volevo centrale Ma lui si mette centrale Perché voglio fare Uno, due, tre Guarda 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 Valverde 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 Come Valverde? Come Valverde? Ha scritto Allora non si comprava Valverde Ah no Sinistro Prendi Valde Valverde Valde Faccina con la crime di gioia 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 Faccina con la c o con la p Valde Così O cosa c Basta che c'è scritto Barcellona Vabbè Ma che cosa stai scrivendo? Quadrado No Ah sì Così ma non è un terzino ma Valde è un sinistro non ci serve un terzino a destra un terzino a destra che non costa troppo e chi è fra questi? ah Valde dici il nome ma è veloce ma è veloce, ma è sinistro ma io voglio sapere chi è ah no, terzino a sinistra il primo ma il primo non è quello di ma fa schifo bello no, quello è il primo ma non può fare il destro? no, andiamo in campionato quello che sono io allora, vai al campionato allora, della Juventus torsino a destra allora Carlo Sanz non sembrava Ronaldo ecco bravo, non è così Gliagnolo Danilo no, fa schifo no, fa uno più schifo io Juventus fa uno più schifo è andalmeno no, lì inter eh, a Serbi ti odio bis, che no l'odio, a Serbi l'odio l'odio con tutto il mio di Marco ma, no può diventare qualcos'altro un fris puoi guardare? ah, abbiamo deciso ad un fris devrai sì, perché se mi serve anche un difensore ah no, non mi serve anche un difensore ah no, mi serve anche un difensore la nostra formazione e non ti segue bamballa cerca il terzino destro su guarda l'ho visto ma che me l'ha voluto comprare oltre che tu stai 120 milioni questa è la fidanzata 80 milioni mettiamo 70 milioni no 70 non l'accetta forza juventus e forza palermo gioia gioia storia di una grande schifitta come non è vero c'è scritto era la clausola chi è claudia si claudia oh ho detto claudia ah no clausola ha detto clausola che clausola mi fa vedere la palchina mi fa vedere bisogna anche ragionare ci vuole una punta normale tipo un 80 un 80 però c'è bisogno di una punta quindi vai vai vedere il mobile quanto è? ma perché elenina 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 il tuo miglior amico che si fa chiamare elenina non so se lo sai è vicino di banca a te faccia blues milling faccia blues milling forza lecce e faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia io pensavo eri un maschio mi avevi detto il mobile mi avevi detto che in classe si vestivano in modo strappo porca miseria ma davvero? prova allora a andare a vedere cosa stai facendo? sto prendendo il mobile kevin kevin sì no io sono vittorio e di nuovo si è capito se sei vittorio però elenina si sta capendo se sei adesso un maschio o no elenina in arte vittorio no non l'accetta io ho fatto 30 milioni vai dacci dè dacci dè vittorio vai all'atalanta subito no c'è scamacca c'è lukman posizie al bologna vai a cercare vittorio hai scorsi no è fortissimo una punta dà degli cambio a lukaku ci sto ci sto e che ci serve ci serve vittorio come mai ti chiami elenina faccina con la crime di gioia faccina con la crime di gioia perché continua a scrivere a kevin chi è questo qualcuno lukman fai cacca allora vai a cercare scammacca scammacca ma perché lo stiamo comprando perché ci serve perché abbiamo solo lukaku non si può giocare senza punta è venuto il sharawi è venuto ma c'abbiamo di bala si ma giocano insieme fa schifo scammacca perché mi sono riuso fa schifo ah pk sono con l'account di mia mamma ma non si chiama elenina si chiama erena appunto perché si chiama elenina cosa ci nasconde tua mamma cosa ci nasconde sotto la gonna vittorio amici carissimi della chat mi raccina una tappante ausilia che ci sponsorizza loi io copri il vrizio con la crime di gioia faccina con la crime di gioia faccina con la crime di gioia con la crime di gioia faccina tu mamma sta per andare a ricevemento ancora si richiama Kevin perché si chiama così si è dato il nome di lui ah si è dato il nome di lui cioè l'enna ti ha detto l'enna è l'enna si è dato il nome di lui che cosa stai dicendo prenditi zirchie eh zirchie io lo dico questo nome no che si passa ok mi vai inseriamo vai cercando faccina con la crime di gioia faccina con la crime di gioia faccina con la crime di gioia non si scrive così non si scrive così non si scrive così eccolo cioè questo veramente deve volere uno zocco e una ciabatta cioè non è che può spararsi ma dov'è ho sbagliato fai una cosa provi ahia la testa a parte no questo è del paio di monaco Kevin ma chi è la fidanzata tua faccina con la tua fidanzata ragione vittoria faccina con la crime di gioia faccina con la crime di gioia è la mia vittoria perché faccio ogni giorno senti ausilia senti ausilia credo che abbia si è arrabbiata si è arrabbiata si è arrabbiata Elenina si è arrabbiata Elenina 20 minori 25 facciamo manuele non ti intromettere però ma che lo so non mi devo intromettere tra moglie e marito non mettere il dito scusami vittoria Elenina aspetta così più una per la storia dei 15 però no dagli un giocatore mi va bene perché se lo riprendiamo va bene aspetta si no no per favore facce reddropi yes va bene ma dai il canale lo ha aperto nel 2021 la nostra Elenina faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia bicipite bicipite pollice che fa non fa no fa la rissa 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 fra donne è vero è vero Elena contro la sedia rissa ma che capelli ha questi infatti 50 no si c'è che va a giro con non lo voglio più ma ormai ho detto 5 anni ma 5 anni cosa gli ho messo un contratto 5 anni addosso alla Roma dimmi Elenina che cosa c'è dimmi parla esprimiti faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia ti rapiscola questo è un colpo basso è 78 che schiena infatti ti avevo detto 3.22 vai riprova a comprarli non ci può più ausilia che sembra il tuo nome vuol dire ausiliare te la metto in cantina ma cosa cacchio stai dicendo posa il fiasco vinto metti cicci lì grande Marco mi ha fatto di male per vivere qua allora non abbiamo più patrice ti vendiamo ancora ce l'abbiamo ancora in squadra allora io ho un'idea ahhh devi andare nella palanca ti sto dicendo vabbè ma nella palanca quanti soldi abbiamo 99 io sono per fatte una freddura se non vale la paura cattiva rigore per il benfica come è bella questa fica no Marco non puoi cerchiamo a vedere il commento r marquito faccina con lacrime di gioia infatti ausilia dal latino significa aiuto dei cristiani faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia ma che ha fatto ridere dai lungo bardo cos'è lungo bardo no calmati qui ci vuole ci vuole un'altra cosa di pazienza scendi giù piano piano ma non li dà già le forze no ah eccole qua no non ce l'hanno l'altro ok no e te non sei cristiana anzi cristina coppamelli al secondo te lo mettono hai rotto le scatole non ce l'hanno buono vittoria ottacità prima dell'uso eh questo è forte lui è forte e poi bira ciuc no ma non non te lo dicono si anche tu hai no ausilio ma avete fatto una ausilio e sta continuando a contribuire per fare una squadra forte no cosa vb è gentile bravo visto cosa ha fatto ausilio non litiga con ausilio vabbè si continua oh siamo vicino alla stagione si ma non è così facilissimo che viene ancora viene a scuola e te lo vai a scuola alle domani mattina alle 7 no cioè ci chiede dopo quando andiamo dopo vittorio in realtà sarebbe un po' grazie a te vittorio io sono gentile se tu lo sei con me e con tutta la chat secondo la community faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia oggi 2 a 2 ottimo inizio ha segnato malvanzi ma non intende dopo i ricevimenti i ricevimenti dei legali 23 milioni per sbord in cannobili posso fare rissa no no basta rissa ormai c'è stato rissa rissa peace and love peace and love peace and love peace and love are you so baggy siamo quasi a fine il mercato my mom non me le fanno aggrabbiare are you so baggy più bec più bec più bec più bec più bec forse è fatta la squadra ma sostanza and you so baggy se lo dice te lo fa di cattro a zero abbiamo vinto zitti zitti guardate a zero a tre ma chi ma chi è pazzito venga venga ma perché ci mandi sostanza però hai visto la panchina è scarsa anche te sei scarsa però ti faccio più bec abbiamo la panchina un po' scarsa no in realtà ci manco Marco Marco Vittorio tu non sai neanche chi è questo Marco in realtà viene con lui in classe dice Faragò me lo sento hai ucciso Gaia da parte mia ma cosa stai dicendo sì ma cosa stai dicendo magari la Gaia sta sentendo questa live ma cosa stai dicendo ma sai chi è Gaia certo che lo so che è successo chi è che va via disperato ma che è successo è patrissima a Napoli andiamo a Napoli a Napoli a comprare a Napoli vai vai a Napoli vai a Napoli che e si va a comprare a Napoli è giusto lo sai cosa lo sai cosa su rosa bicipite bicipite andiamo a Napoli ragazzi siete tutti d'accordo compreremo in casa di Napoli Napoli ciuccio ma perché è un ciuccio allora è capite oh oh gustoso per caro poi per te gustoso ha detto Vittorio se vuoi bene a Ausilia si è il cettocampista ma il cettocampista non stai prendendo un cettocampista si lo sto prendendo si chiama Notan no no si chiama Roblox 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 io lo voglio non lo voglio aspetta migliore Blue Stars cosa siete a Blue Stars il suo cervello arriva quanto un passerino passerino si avevo capito che Kevin è un ippopotamo mentre parlavano no Fortnite ci vediamo a scuola ma perché tu vai a ricevimento FIFA te l'ho detto un minuto ma perché ma perché ma c'è c'è il mobile lo voglio in prestito bravo oh no lo compiamo stumbre voglio 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 in prestito si fa una cosa voglio in prestito no no non lo voglio in prestito non lo fa mai ma come andare ah ma che c'è il mobile di questo di scioglie Elena io voglio bene a Kevin sicuramente poi voglio bene anche a tutti i bimbi di questo mondo ma a Kevin voi ho visto che non abbiamo lo rischiamo vai nella modalità dove puoi scegliere ma non è rimalato nella nella modalità prestiti vendite eccessione o va non so sto prendendo un ruotore così di vendo che c'è questo che c'è dove vai Kevin ti ama Kevin ti ama ti amo così te l'ha detto te l'ha detto per Marco ho un dito molto bello ti farei in cazzo mamendo ah perché a Kevin piace mangiare l'insalata con un dito user è della Juve perché ce l'abbiamo noi in prestito e perché stai rimuovendo dalla lista trasferente non è vero mi stai nevando non le stai mettendo vuoi un pisci di in faccia ma che schifo 35 popolo ma è presi una Polina non ci ti arriva la colla va bene lo stesso avete fatto ridere Mariela vai venne la cartella prestiti o vendite siamo vicini ragazzi a giocare è quasi finito il mercato che schifo 35 mi stai maltrattando l'hai visto mi stai maltrattando poverini sei troppo importante per noi mi stai mi stai dicendo che ti do una da zapparate sei salutata io ti ho salutata prima mannaggia sai che ti voglio tanto tanto bene faccina che manda un bacio quel pantano la 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 cosa schifo si no abbiamo perso 0 a 3 zirchino no sappi non doverà mai più zirchino neanche baltanzi cucina sulla muria perché non mi ha salutato mannaggia sai parlava con l'ausi ah e no no ho condiviso la chat con la zapparate faccina sulle ridente no no non ho mai capito io io sono offeso metti asmo in attacco scusa no io sono offeso ma non credo che giochiamo ancora you beg you mamma eh ascolta non mi parlare in inglese sennò ti dita assolta io non so cosa dita buono anch'io ho distaccato allora che hai devi devi andare nella lista tra sperimenti lo mette stile ma vedi dove non batte il sole ha mangiato una trombetta stile sta assendo il cazzo poverino una trombetta non mi mangia una trombetta guarda ora vomitate la sede arriva il dottore arriva il dottore arriva il dottore stanno assistendo al gatto ah il cazzo che mangiava un altro metto chi è questo ho uno barbutto sempre per giusto 8 milioni e 8 allora ferma facciamo un voglio un miciano perché il napoli forza che il napoli ha fatto perché il napoli mi piace il napoli ma se noi siamo ancora a Roma infatti c'è qualcosa che non torna allora vai a cercare i giocatori no non ci siamo più abbiamo abbiamo una panchina da quattro scappate di casa ma vabbè no è che ora inizia il campionato e che ora ci offrono per giallo camoncini 70 milioni no zero no trattare un bel niente la squadra è fatta dai ragazzi condividete la live così ci diverrete i amo tutti insieme faccina io ma io mi cango perché mi piace cadere eh eh ma io mi fai ma io mi fai ma io mi fai ma io mi fai scherzi che è già un po' ma io mi fai bisogna tornare tra un po' sono mi fai ma io mi fai ma io mi fai ma prima sul su il palato calmati non so sono sempre gli stessi sono fuori sono forti lui è forte dobbiamo andare anche noi Marco ci sei? ci vediamo dopo portami telefono e traiardo su brawl ma fino a che ora ci sarai Marco ciao ausilia cuore rosso non è giusto stiamo facendo la live mentre tutti vanno a scuola abbiamo scelto giù lo sbagliato cavoli loro cavoli loro è finita la settimana cosa la giaccaria ma non credo di sotto noi si fa finire si fa finire 5 ma che stai facendo? sto comprando i giaccarini io ma guarda le forze non so se è preferito si spetta un po' io mi fido di Kevin se io qui non so cosa sta facendo è un radico mi va bene ho durato contratto tre anni no un anno ti faccio nemmeno complicare papà un anno 10 milioni però non potete andare via Vittorio Marco non ho fatto una freddura in più mammaggia ma io mi cado facciamo in due ausilia non ci abbandonerà ora scoprirò che ci abbandonano ma l'ausilia non ci abbandonano mai oddio uno sì perché ci esiste una sta davvero non si è abbandonato davvero entrambe non si fa così non si fa così non riesco a comprare uno ti dire una parolina io andavo prima non ci sono quelli che vendono proprio se c'è qualche giocatore buono magari se no andiamo insieme vi ma che l'asso tutti te tonta è arrivata c'è 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 ah non è colpa mia mariella ha detto che non la saluta mai ma è colpa di papà che dice che non ti gioca è vero non l'è salutata neanche a me ne l'è salutata ma chi ti vuole papà ci siamo capiti ok va che è che centres non c'è ma ci siamo i 4 papà c'è 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 v non c'è non c'è parlare c'è v c'è 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 v in v 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 I sfombasti Papà guarda che giocatore ho preso Ma è fa schifo Sì canta sei E fa schifo Ho preso i giocatori più forti papà Io continuerei Io continuo Abbiamo detto Sono giapponese No schif No schif Cosa vuoi? No schif Che vuoi andare a mangiare? Che significa no schif La bananona La bananona La bananona La bananona La bananona Ho venduto La bananona No No perché ho preso appena un 76 E indovina quanto ho venduto La bananona Indovina A quanto l'ho venduto Tanto ho preso una che è 76 No di più 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 No di meno 40 milioni Ci credi? E invece ci devi credere Cioè all'inizio abbiamo a farci 30 milioni Ma alla fine sono riuscito per 37 milioni e mezzo Capito? Tu sai giocare a questo gioco Guarda 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 Sì però c'è un problema Ora vai a comprare il pacco dei modi Non c'è troppo la pistola Ma io sono povero Ah ma sai che non ci sono offerti tanti Era tanto Era il Chelsea Guarda Guarda Anche la Abbiamo ancora la prima Si faccina con lacrime di gioia Tunno Tunno Mi sta pieno Mi sta pieno Allora 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 Che dico? Allora sto facendo FIFA Sono troppo intelligente papà Vero? Ah gli ha il dito Il minchino Mi sono distrutto Siamo in set che vedono la mia sofferenza Senti hanno i cazzucini Mi hanno offerto 70 milioni No No Io mi hai venuto Allora gioca insieme a loro Dai vediamo così ci divertiamo Bicipite Bicipite Allora 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 Sì Allora Sì Allora Siamo in campionata adesso Allora Allora Quanto C'abbiamo 162 milioni Compriamo Io comprirei Comprerei Comprerei Qualcuno di troppo Ho un centrompista Ma che centrompista ci sono? Allora Vai 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 a Vai a Manchester City Mi va bene Accetto Manchester City E' arrivata La Eh non si dice Ah non l'ho capito I nove stanno guardando Oh che cavolo fate Vedere la Roma che dice l'Europa Liga Ah avete fatto bene Vai C'entra capisca Uno di questi Scegli E compriamo Aspetta Siete mitici Pollice in su Siete mitici E non ho ancora fatto la freddura Siete mitici Mitici Mattia ti do il consenso di Spogliare la tua freddura qua Che poi farò nel video Cento milioni No vabbè No C'è 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 Ci sta? Sì Vabbè Ha preso o no? Sì, poi devo tratta Stratta, Kevin Questo è un corpunte Adesso ti ho riconosciuto a cuore rosso ... ... Grazie per la visione Ora sistemiamo la squadra Colpone Ragazzi Comacic Ci farà le nostre fortune Ah Tanta roba Buon uomo squadra Abbiamo fatto colpone Andiamo a squadra Sistemiamola Paredes No Sanchez Mette Sanchez in panchina Al posto di Non è male Abbiamo L'attaccante E Spinazzola Perché ha messo Spinazzola Ah perché era stanto Ragazzi Che ve ne pare Per essere a Roma Walker Dai Devrai Andiamo avanti Vai Vediamo se si comincia il campionato Poi si guarda Un'altra cosa Tipo Non si infortuna mai nessuno Quelli titolari non si vendono Anche se ti offrono la casa Un rene E cose del genere No per un rene si dai Allora ragazzi Sì Mamma mia Mamma mia Ho vinta la prima Mamma mia Però è segno brutto Lukaku Lukaku Spinazzola Di bala Ah no Sbagliato Lukaku Ho sbagliato anche il rigore Mamma mia Va bene Iniziato con l'incubo 4 a 3 Calmi Mamma mia Kevin me la devi far vedere la partita Non voglio vedere il risultato Perché mi viene un infarto La voglio vedere Anzi dipende che partita è Alcune le giocheremo Accettiamo Chi è? Un 68 Sì Oh 3 milioni Oh Vendiamo mancini Non voglio vendere mancini Mi garbano ai sinistri E adesso li fanno meglio Ho fatto una cosa Il destro è quello delle No allora Eles Verona Ragazzi partita difficile Ma dobbiamo portare a casa 3 punti Se si inizia con 6 punti Il morale della squadra è buona Il mio di balino Il mio talismano Ok? Ok? No dove vai? Dove vai? Dove vai 11? No 21 21 21 non sei di bala te Oh Mi importa abbiamo uno forte Abbiamo uno forte Mica tanto Cioè ha preso Cosa dà No T'ho pagato 80 milioni Accidente a te Vai Dai Lukaku 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 Vado Lukaku Sarà Peppa Lo sapevamo Ecco ora vanno a far 2-1 loro Ora vanno a far 2-1 loro Ora vanno a far Ok l'abbiamo ripresa Dai ragazzi Ci perdiamo perché Ci prendiamo da più Al colpa di latte No Prendi palla Cosa fa? Che è? Un'azione Mettila in mezzo Mettila in mezzo Che ti ho detto io Kovacic Ci risolverà tutte le nostre problematiche Siamo a vantaggio ragazzi C'è il 21 dall'altra parte Che ha una prateria C'è una prateria Gliel'abbiamo presa Chi è il 4? Mi ricordo 4 Grande devrai Grande devrai 2 Walker Bravo Per il 7 Pellegrini Mono C'è di mano in mezzo Lukaku in mezzo Vai No Senti Io non ti dico tua mamma Perché cioè Magari tua mamma ci sta ascoltando Tua mamma Doppio testo Ragazzi Mi pippo da solo Bip 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 Oh Lukaku va Lukaku va Ah lo dico io dove vai No Lukaku E che ne abbiamo testo in prestito Vai Kovacic Faccio d'angolo Qui sento che c'è il gol di Lukaku Me lo sento Che faccio d'angolo Ragazzi ma è il Verona eh Oh Di bala Ma di cosa stiamo sbagliando No troppi cosa stiamo sbagliando Perdiamo col Verona te lo dico io Prima siamo un po' No non ci siamo Due a due Dobbiamo sistemare un po' qualcosa nella difesa Dopo mi fai vedere le tattiche Questo è il gol Uh citto Ho pagato il prezzo del biglietto Oh di bala va Di bala Di bala Di bala Ma nove tiri Nove tiri si è fatto Nove tiri Hai sbagliato pure il quattro Che cacchio sei il quattro Oh 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 Mamma mia che ti ho detto Lui si salverà la stagione Ciao Cicci Ma undici tiri Siamo scandalosi No se n'è andato No se n'è andato Ora non ritorno più Marca Ragazzi Non sono per niente contento Non facciamo il 4-3 O la diavante a perdere Manuele facci sta a freddare Ehi No Devo uscire No No Allora Ausilia Se vinciamo Faccio la freddura Perché sono triste 4-4 Ma è una partita da tennis No Lukaku Io non ci credo Non va bene Non so più No Lukaku no Dai No abbiamo perso anche Paglia Ma perdiamo Ma perdiamo Visto Ma perdiamo C'è ti rendi conto Lukaku quanto erano sbagliati 13 Siria 7 No Sì Sì va bene Però 85esimo Guarda partiamo loro Dobbiamo rubare palla Dobbiamo palla C'è doppietto Noi abbiamo fatto doppietto e doppietto Dobbiamo palla Dobbiamo palla Dobbiamo palla Aaaaaah Grande quartiere Grande mattina Dovrebbe aver fatto Novantesimo 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 no ferma un attimo non c'è da sistemare ferma un attimo c'è qualcosa che non va in difesa e andare in tattica come mai 5-5 ma che è tattica standard no vai avanti forza Roma forza Napoli faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia ecco ah vedi presso il suo primo controllo no ecco perché ci salta no no proviamo con ripiega poi impiazzazione a profondità no attacco su costruzione lenta via freg veloce però aspetta veloce che mi ha dato rosso cosa succede si muore? no muoiono no 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 giù equilibrata poi cosa c'è oltre equilibrata no equilibrata c'è l'altro ancora basta ci sono ci sono questi due io lascerei questo poi va giù ancora no giù questo cos'è? un giocatore in aria in generale? quando sei in zona vai un altro un pasto vai vai giù angoli no se le nostre fanno il contropiede poi giù punizioni no anche troppe sono le punizioni vai va bene proviamo così comunque bisogna far mercato bisogna comprare un altro apposto di parelis è lentissimo parelis proviamo così dai si è fatto 4 punti in due partite vediamoci Sanchez è riuscita a 79 fare la stessa no no lascia così continuiamo diamo fiducia a sta squadra facciamo un'altra partita vediamo se non la dobbiamo fare a te vai 62 di velocità no sei rimasto molto deluso perché cioè se mi hanno fatto 200 ora non avessimo giocato Milan che è andato via oh il poverino parvole darbole ciao darbole ausilia alla prossima si parla di vala per 83 milioni no no ma già stavamo messi con le pezze al sedere no andò va ma il mila si perde la si chiamano in mila ultimo giorno inter hai preso merino guarda noi quindi ora ci offriranno al massimo compri ma non si vende siamo già messi male no perché altro se non avessimo giocato con Solanitana e Verona era buono 4 punti buono questi erano gli ordoni voi allora per 605 milioni è uno si può giocare quella lì o te la prossima propria sì ecco non gli darà non gli darei dai coraggio di CP di 100 punti 100 punti 100 punti se avessimo fatto due punti due vittorie mi andava bene figlia figlia 2 punti rischio rischio colpa di papa spalla spalla ma guarda le ultime cose ci vogliono rubare il nostro Nicola Pisilli wow il Pisillo è il nostro il Pisillo nessuno ce l'ho dopo oh merdi sto andando alla Lazio forse ultimo giorno ultime borse capito? 20 20 20 milioni per spinazzola intanto che te ne fai vai finiamo il genere è andata così dai grazie il conguaglio il conguaglio vai cerchiamo ragazzi vi si fa vedere in diretta la partita sperando di non perdere con Mila perché non si può perdere con Mila aspetta questa è la partita Mila-Roma figli di ieri di Europa League la Roma fa tutto il Mila ok andiamo sorsino la partita no no voglio giocare voglio giocare almeno questa ogni tanto facciamo anche vedere che si gioca non solo no cosa parli a me quelle grosse ti ho detto giochiamo ma lo so chiedo io non l'ho mai giocato seleziona l'altro però c'è scritto eh vedi io però devo personalizzare pezza che non mi ricordo se scatta R1 muovi io purtroppo ragazzi gioco ancora con le freccette mi spiace perdicolo ma devi fare la scivolata ah ah non l'ho fatta ah non l'ho fatta ah non l'ho fatta ah non l'ho fatta io stiamo rastupendo cose mi sa che non puoi far uscire te il triangolo io non l'ho fatta l'ho presa ok ragazzi con Milan dobbiamo guarda che Smoling non è Ronaldo io sono blu vero? sì non è neanche andato ma vabbè a me noi vediamo in diretta come gioca vai vai te la vedo sei? vai mio oddio mio quant'era lunga oh cavolo ah eccoci lo sapevo ma te potevi far parte i tuoi mi ammazza Raffaele Raffaele porca mi hai detto che gioca leggenda e anche te ma hai messo nella carriera difficoltà esperta sì leggenda oh porterino però non è male io te la ridò se me la dai ok ok vai 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 Kevin vai Kevin è proprio Lukaku è proprio Lukaku guarda ci provo aspetta ah no la volevi qui non ti ho visto arrivare io vando vamos vamos ora bisogna provare tieni vai io riparto Kevin ripartiamo io te l'ho appoggiato vicino chi era? Paolino te la ridò a sua sonella vai Paolo tra te Lukaku sembrate che chi è questo Pacovacic che ne sia le bravi infatti ah no no non te la do no ok oh stiamo giocando noi per ora tra trenteschi eh sì è perché si è messo meno minuti è vero si è messo solo tre minuti siamo su final vai aspetta eccomi no me la devo evitare no arbitro come a me ah no perché Lukaku batte le condizioni vabbè te la do a te comunque dove sei ma me la do a me ah no aspetta me l'auto no è andata a sua sorella dai che sbaglia dai che sbaglia dai che sbaglia tieni la dovevi dare una scelata in serie e si rapartano questo è un delle furie con leao addio leao leao non ti abbiamo rubato la macchina cosa c'è non l'abbiamo fatto lo sembravessi bello l'ho preso l'ho preso tranquilli ragazzi te la ridò ok te la ridò ok oh peccato no oddio mio non la dare a leao non la dare a leao è cristante brutto infame vado io vado io vado io è finito il tempo ma è possibile è finito il tempo vado con un gallo laggiù per vedere se ma lukaku è un paletto non so io farei una cosa si può fare la formazione 4-3 ora 4-3 perché 4-3 offensivo vabbè uguale è falso non ero è bello questo ok e metti in attacco non si può vedere si c'è bravo e poi pellegrini cova c'è dietro le punte ah no lascia pellegrini ribala se c'è l'uomo vai proviamo ma cosa fai allegri non ho mai visto un campo ah Kevin almeno per fare un gol dell'1-0 bisogna fare un passaggio in più quando ce l'abbiamo poi dopo si ruzza non te la faremo mai vincere piccolo diavolo così permesso mi dà la palla dice è fatto conoscere è una donna che arbitra e quando è che offendere ora chi la passa lunga la devi passare lunga amico mio la devi passare lunga no ti affregavo ti affregavo volessi rispettavo dove vai dove vai no dai calmo non ti agitare prima dell'uso siamo nella cacchetta siamo nella cacchetta che battito Medina alzare la recensione ok via che viaggia il Mila ma mi sai che il Mila è il primo non credo signora fa via i passaggi perché questo chi? vedi bisogna fare così perché hai visto? non me la posso no perché hai visto? infatti io ti ho fatto il passaggio normale pigiando un po' più forte oh tu no non può perché hai dato fallo no ok vai hai dato il vantaggio hai dato fallo dopo mezz'ora allora signorina allora scusi signorina ah qui sono qua sono qua paolino vai che siamo due ora te vai e poi se vola dai mezzo così si fa con la porta vuota sì parede parede se lo sappiamo tiriamo poi saranno stanti teniamo gli stessi sì intanto sono stanti ho visto che si ci bucano faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia faccina con lacrime di gioia è rimasta ausilia perché aspetta la freddura adesso se vinciamo eccoci Lukaku 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 perché continuo a giocare con te bella palla che ti ho dato bel tiro del cavolo che fa ma va bene 67 aia aia bravo perché non è una pasta è perché è un po' così è un po' la difficoltà del giocare ah vedi è un po' fatto così non è proprio oh mi fido di Lukaku col cavolo pellegrini mi fido di Lukaku col cavolo e se andiamo sono i centrocampisti stai in senso stanchi è un po' sì oh cambio difesa Mika e Sanchez guarda 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 i giocatori dai gli diamo un po' di fiducia a tutti tanto se tirava Lukaku ti stacco le gambine e ci gioco a Shanghai Cicino dammi qua ho detto ti stacco qui c'è Lukaku ma chi è quello il messaggio oh Lukaku bravo Matteo ti spacchi tutto fermati questa pelata è un po' di fiducia e non sono niente è un po' di fiducia si scienca io giocherò per due mesi ha fatto sta cosa perché non mi farà più no è la giornata di Roma Mila ieri Mila ha perso la Roma ok te la ridò vedi come so forte e ti bala ti bala ti bala come via pensavo usciva era appena uscito quel Lukaku c'era sgritto che cosa ha fatto Paolino ti aveva dato una palla pallina stop io pensavo usciva perché è stato fermo il quartiere schifo Milan allora io ho capito una cosa che se giocassimo solo noi non prenderemo 5 gol a partita uno si ci piace tanto non gioca mai che ce ne frega che c'è che c'è non vedo sangue dava bene tutto rosso se fai col portiere ti regalo no è un casino ha detto Marco che se si fa col portiere ci regala un centesimo chi dona guarda come si fa non è col portiere però abbiamo fatto gol è uguale Paolino doppietta gli ho fatto prendere il russo a Spinazzola cos'è? ah è la Spinazzola vabbè smette Angiolino cioè era l'unico che giocava ha fatto spelle l'unico che si regava giustamente su 4 a 0 al novantesimo si rischia tanto bene vabbè a me è che non gioca ha fatto le scorsi scusa portiere secondata ha detto il portiere deve far gol non subire gol ok ok vada lì 7 punti 3 partiti ma siamo in compagnia del mister per le prime impressioni accanto su mece appena allora Spinazzola dovrà scontare una politica da fare sfide di oggi in che modo questo è il filo a grazie mille e buona giornata anche a voi tutti e due nella mia mamma che non ci sono più i miei genitori e non ci siamo visti i compiti cosa? che ha detto? aspetta che ha detto Marco? aspetta aspetta ah grazie mille e buona giornata grazie a voi tutti e due la mia mamma che non ci sono più i miei genitori non ci sono non ci siamo visti compiti per la maglietta e la maglietta di cuore e la maglietta di cuore ma cosa cavolo stai dicendo? comunque ragazzi adesso dobbiamo è finita non mi ricordo se ti ricordi di fare la videochiamata con i tuoi genitori e la faccina raggiante con occhi felici e il mio compleanno è un torneo di calcio football americano non ho capito nulla poi ti chiamo e dopo ti mando un vocale ma sarà meglio vai con chi si gioca ora? sono stanchi ce la fanno a recuperare? ce la fanno? io voglio scendere con lì lì mica la partita accordata l'impoli posso commettere che senza è i giocatori più forti guarda è settembre è finito non si può più fa mercato no è finito proprio è finito vero papà? è finito o no? è finito ora si deve chiudere dds e poi ti cuore rosso il tuo numero di telefono per il tuo regalo di natale e poi ti cuore rosso la tua fine di un'altra regione che mi ha detto per pera che e r quando è il tuo compleanno margito? abbassa io faccio simbolo c'è è vero? sì no 1-0 Lukaku come Lukaku? sì ma come Lukaku? che vedi? volevo dirti abbiamo fatto quattro partite e abbiamo detto nel partito un paletto vedi speranza ci dà soltanto l'oglio però fate no come dico fino a solo l'andaggio fino a solo l'andaggio ho cambiato idea ho cambiato squadra sì 4-3-3 euro c'è 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 oh Pietro e quando è il tuo compleanno Marco dai Marco dici un po' quando è che compi 7 anni questo Kevin non si può sbagliare oggi un po' di calcio faccina con un gran oggi un po' di calcio stiamo provando a far vincere alla Roma no ma qua si può fare l'Europa Ligo o la Coppa Italia per ora si è fatto tre pittorie un po' di calcio allora vediamo lo slave a Praga vediamo se abbiamo preso fiducia Lukaku dovresti aver preso fiducia ora c'è un fiume un fiume in piena Lukaku gliela mette dentro detto così non è proprio massimo non è sicuramente l'hai ficcato dentro il fatto ma è neslava Praga ma cosa pensi di fare ma dentro il resto quando antinquavin 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 questo è il giro Kevin, Lukaku, è davanti porta ok, torna a fare Lukaku questo va a fare gol io che ti ho detto? ciao Ausilia si affaccina con un gran sorriso e occhi spalancati oh, è arrivato Pietro? Ausilia il 31 febbraio papà va due che ne fa? lascia lo sta che deve mangiare un piccino lascia lo mangiare ciao ma che... il mio compleanno è il 31 febbraio capito? un sacco di Dija masco si sta prendendo in giro ti rendi oltre perché? tenghe tenghe ecco, allora ho detto bene che ha sette anni ogni quattro anno fa il compleanno dove sta andando? ha fatto un dollone si c'è, ha fatto un dollone bravo zice e poro poro eccoci, guarda che prateria ma guarda che prateria è arrivato la rotina ma guarda, questo ci avrà 74 anni affegnato ma dai dai, dai Lukaku fagli vedere fagli vedere l'uomo ma non si riesce a tenere un risultato vai vai Lukaku io mi fai una testa grazie mille per la tua fine giornata di ferie per il benfica abbiamo vinto 65 ma... ma Marco sta bene Marco, hai lasciato cioè nel senso al tuo cane i joystick il pezzolino spiega come è successo? ridere a crepa pelle ridere a crepa pelle ridere a crepa pelle vai Torino vuoi fare il direttore di risultato? vai, risultato ragazzi come va ragazzi 3 a 0 cioè ha segnato la seconda io ho detto che volevo vincere l'Europa League e il campionato non è possibile ma io te lo dico quando c'è l'UVIT c'è l'UVIT appunto quando c'è l'UVIT la voglio giocare eh secondo c'è l'UVIT infatti c'abbiamo una bella scuola gli scontri diretti che ne voglio fare? abbiamo una bella scuola che è con Genoa? Juventus Marco Dario e Marco Dario ha detto di no Juventus Marco Dario e Marco Dario ha detto di no a me bene dai non ti ho detto nulla di è un po' di di? si chiama il mio numero? già poi mi sento che non ti ho fatto ma che scrivi? simona partita simona partita ora scrivo il mio numero ora scrivi il mio numero va bene scrive vabbè intanto non credo che qualcuno lo vuole allora scrivi il tuo numero voglio vederlo ricordati che abbiamo anche noi il potere di scrivere il tuo ricordalo scrivi il suo numero in che senso? scrivi il suo numero non puoi scrivere il tuo numero non lo fare e poi cosa sarà? 1 6 6 e poi contro 5 6 6 nooo ho fatto con Gudur chi è un po' quello che ho fatto è 6 666 666 666 666 Lukaku allora sono rimasto in debito con ausilia di di una freddura però di una freddura sono rimasto in debito ecco ma questi fanno l'osso avete rotto non dico cosa sempre calcistica perché l'ho premesso che oggi sono in debito calci ah ah sì go go come ho detto 1 2 allora allora c'è un barista che fa il caffè R può scrivere quel numero mi dà fastidio ridere a crepa pelle 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 allora c'è un barista che fa il caffè arriva il cliente e lo gira e lui dice oh non puoi girare il caffè non puoi girare non puoi girare non lo sai ma che se gira il caffè tu perde la Roma e lui dice che me frega io sono della Lazio ma che è la vince ahi sta funzionando la fredura non l'info ti ho compromesso guardo vuoi le vince le d'altro no di dove sei chi di dove sei che è di dove sei che è di pesce dell'Italia Italia faccina con la crime di gioia faccina con la crime di gioia aria l'ha capita bravo stiamo perdendo no non c'è oh allo scambio del primo tempo capi fai direttamente il risultato lo so no scendo il caffè e Enrico sì sei a qua anche io eh che gatto vai mi filo della prossima vai vai vediamo la risa fra Niccolò Pisillo te lo stai capendo che stavo vincendo no siamo no siamo un punto avanti papà quali sono le risultatrici indovino tasmania bicipite ponnoce insuridere a crepa pelle ridere a crepa pelle ridere a crepa pelle mila non lo so sì il mila per il terzo indovino chi Napoli no Italia Italia sì non mi sento tanto bene però casa mia casa tua che differenza c'è di dove è Tasmania Manuele e Agostino siamo insieme oltre papà risponde alla nostra domanda dove è la Tasmania vogliamo soverlo c'è una sala la mente si chiama Kuni che si può dire anche il cu quale è quale è quale è quale è quale è Tasmania Kevin stiamo perdendo stiamo perdendo stiamo perdendo eh eh Lukaku uno di noi Lukaku uno di noi Lukaku sai quale cosa fa nel tempo libero Lukaku vuole sapere se siamo in Italia ma ho fatto tre a due no dai abbiamo preso nel Kuni l'Url Australia faccina con la crime di Gioia faccina con la crime di Gioia faccina con la crime di Gioia Bici pete aspetta c'è 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 io non lo so io sono preoccupato oooh c'è non faccia guarda sbagliato oooh mi set o t o e n t t capito Capito? Dai, fate cosa sul caccio d'angolo, fatemi... Noi dobbiamo fare cosa sul caccio d'angolo. Chi è Kovacic? Kovacic! Uno di noi! Dai che ci è rimasto solo 20 minuti prima di chiudere la live. Su. No! No! Ma si può prendere quattro gol da Kuni, ma si può. Guarda Kevin, avevo fatto quello a caso, lei dice. Io so come si chiama il tuo cane Kevin. Ah, sa come si chiama il tuo cane Kevin. Come? Kevin. Kevin è il cane in casa. Vedi, mi sta sbavando addosso. Guarda, abbiamo fatto quattro a quattro, guarda, stai a vedere. Cioè, vabbè, dai! Dai! Cinque! No, vabbè. No. Basta, ragazzi. Non vuoi più vedere questa partita. Tanto la perdiamo. Chi è il 20? No, ha detto la tua vera identità del cane! Non si dice mai... Ma l'avevamo detto prima! Guarda il risultato. 355. Papà! Vedi questi soldi? Mi spreco tutti io. Mare, mare... Io ti spio! Io ti spio! E cosa stai facendo adesso? È vero. Ho le telecamere dentro casa. E cosa stai facendo adesso? Ho le telecamere dentro casa tua. Aspetta. C'è le telecamere, aspetta. Cosa sto facendo adesso? Aeroplano 4-1! Pisello di fuori! Sì! Allora, Kevin, ti lascio con loro che devo rispondere alla pensione. No! E quando torno mi dividi in quanto abbiamo vinto. Ok. Però... Continuo a federe il tuo cane. No! Ausilii come si chiama il mio cane? Ausilii come si chiama il mio cane? Dog. Si chiama Dog, secondo me. Vero Marco? Marco rispondi... Che dici? Ah! Ci stanno stracciando. Dobbiamo vincere... Marco, dobbiamo vincere o perde? Dicelo. Poco spazio per Ghioliente. Poco spazio per Angelino. Poco... Ebbà! Sì o no? Sì o no? Sì o no? O no? Non mi torna! No! No! Ok! Perdere! Erciko! 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 E, ok kudos Ma che ridi! Non ho riso. Io non ho riso. Eh 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 eh. Marco e non vuoi confonderti... Come si chiama allora? Ridere a crepa pelle? Ridere a crepa pelle? Ridere a crepa pelle? Ridere a crepa pelle ridere a crepa pelle... Non li stanno scendendo tutti! Ridere a crepa pelle! 5 a 0 vai lukaku vai lukaku si god dog no a me piace l'hot dog si ma ogni segnalo ogni 2x3 colombo vai il 7 numero 7 numero 7 siiii pellegrini fa il pellegrinaggio un eroe senza fine è bravo martinez bravo er grazie chi sta ci sta ah inventi 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 non è vero non è vero scherzo 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 è un capolavoro che piogge da casa appena subito god dog in italiano dog god è al contrario lo so di jai è proprio capolavoro 2 si questa è un'altra la stai giochendo da solo si col genere abbiamo perso la 0 cosa stai dicendo? per che ora stai perdendo 4 a 3 perchè non posso lasciarti un attimo da solo che parli con marco e perdo è proprio capolavoro che è proprio senza fine che fai? come si dice? ragazzi io non lascio più a Kevin da solo è pericoloso un'altra situazione comunque ora siamo tipo 10 eh ragazzi dobbiamo vincere col mondo dove sei? dove sei? dove sei? oh oh fai il cacca si sente? no Kevin mi ha appena rotto la sella ahahahahah sporo già vai andiamo a vincere questa partita vai vai andiamo a vincere questa partita Kevin guardala che roba eh volevo che te volevo passare sei che mi dici che non mi hai detto niente io non l'avevo perso non vale via 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 ma smoldica è che cacca facce te da un po' sonoaborvalo, è mutaforma è micro è già mutaforma, sei mutato da solo è proprio un corpo non me la dare ok Ok, ora si. Iniziamo ancora a vantaggio. Ma tu l'hai preso in mano... No, intendo, i joystick. Perché perdeva col mozza? Si. Che schifo. Perdeva... 4-3. Cioè, perdeva 1-0, poi 2-1, poi 3-2, e poi 4-3. Questo è 2. Oh! Papi, passo, passo. Io sempre la passo, se tu cala la passo. Facciami come fosse un folletto... Mamma mia che t'ho dato! Mamma mia che t'ho dato! Il tortellini con i ringo è buonissimo. Fa mangiare il tortellini con i ringhi? Con i ringo? Ma... Ma che senso? È fuori gioco! Come? Ce l'ha annullato! Ma spai, ma i ringo sono i biscotti quelli? Si. I tortellini? Si. Si, hai capito bene. Che schifo. Tenghe, tenghe. E tu dici... Ma staglia, è buonissimo! È verona quanto mi vuole ci vuole! No, il problema è altro che t'ha invitata a cena. Guarda che tiro che faccio. No, non tirare. Ma che tiro, questi sono scarponi. Ma... Ti ha invitata a cena! Ti ha invitata a cena! Ti ha invitata a cena! Sì! 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 L'ho visto ora! Cosa? Eh... Ha conseguito. Oh! Ho fatto da un taglio! E me lo vai a... Come si fa? Cielo... Cielo... È così lungo, sì! Ma... Guarda come gioco io! Come ti ha fatto un bel gol? Ma fai schifo perché non devi passare! Non mi guardare male, Casey! Il calcio è fatto di calci! Se vuoi ti do un bel calcio! Si, ti do un'altra cosa! Però proviene dal sedere! Hai già utilizzato prima dal sedere! Anche sei! Un gol! Sai, Marco! Oggi stavamo giocando a calcio perché noi abbiamo una pallina e andiamo fuori! In che senso? Eh! Sapessi! Tommy ha tirato un pallone in faccia fortissimo per fare gol! L'ha lanciata! Viste che era piccola non la vedeva nessuno! Gli ha lanciata qui! Così guarda qua! Perché stai lì che ti prendi questa apertura e non ci ho compagliato? E poi da quel giorno ho fatto gol! Ti tronco le gambine! Scusate, me l'ho… Io gli faccio… E andavo in gamba tesa da qualche altro… Guarda là! Camille! Oh, non è quel gioco! Ah, sci, sci, sci… Vabbè… Allora… Non mi va bene che hai perso prima! No, no, mi tira il banchetto in testa! Torino Inter! Torino Inter! C'è Torino Inter! Ma si rocca! Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande! Pellegrini cruciale! Un'ottima prestazione nel contesto! Ausi ausi! E se cosa di solito faccio… Ohhhh! Metto allo sedio! Guarda Peppano! Ha fatto sette gol! Guarda! Ma quella cosa che hai iniziato… Guarda, te l'ha messa in programmazione! Ma cosa? Ti ha programmato una live! Ma chi? Guarda, la prima live! L'hai messa in programmazione! E' un soldo infante! E' un soldo infante! E' un soldo! 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 Allora… Allegri fai schifo! Non vinci un campionato! Sei proprio la cacca pupù! Allora… Pausilia… Sei come… Molti intelligenti Allegri alla Roma! Come… Come… Intanto vai avanti! Come… Come è giusto che sia… Siete tutti collegati ed è giusto che vi invitate tutti… Ma… Qua ne faccio? Guarda, simulazione veloce… Tanto vuole controllare lì siamo! Sì sì! Eh… Ehm… Eh… Ehm… Ehm… Paraconsi… Ehm… Quindi è usi la solita che deve perché insomma… Continua tutto qui… Allora… Sempre calcistica! Sempre calcistica! Allora… C'è una scala di calcio che sta viaggiando in aereo… Perché è un trasferimento difficile… Ehm… Dopo alcune scorsioni… Chi è morto? L'aereo poi già fa… Oh… Perde un po' di quota… Di cuore! Di quota! Ah! E la hostess… Che stava fatto? Cioè… E la hostess… Si rivolge a passeggeri… Sì, vuole partita! E la hostess si rivolge a passeggeri… Eh… E cosa… E gli dice… Passeggeri… Siete pregati di stare caldi… Stiamo per… Troppo… Per perdere… L'ala sinistra… Cioè… Sta perdendo quota perché c'è l'ala sinistra… E allora un giocatore… Che era distratto… Dice… Ma vabbè… Fai niente… Giocheremo in 10… Senza l'ala sinistra… Ma non parlava del ruolo in campo… Noooo… Torambo… E perché stasano la giochiamata… Perché… Ma mai non ci credo… Non ci credi… Non ci credi… Guarda… Oh… Ok… Giochiamo… Ma guarda… Ma guarda… Che cavolo… Guarda… È proprio una cosa bella… Ho cambiato per gioia… I tasti dei… Non ci credo… Pettiamoci il vantaggio di 5-6 gol… E poi la sigla… Faccina con lacrime di gioia… Chi l'ha fatto uscire? Chi era già uscito… E quindi l'ho fatto ancora uscire di più… Ma era già lì… Era già lì… Siamo già 2-0 ragazzi… Linda… Linda… Linda ci fa il mazzo… Linda… Linda… Niente… Fate troppo… Fate troppo… Fate troppo… Ragazzi… Mi devo concentrare contro l'Inter… Non posso perdere… Io ho il sedere scondo… Non pensare al tuo sedere… Le tue chiappe stanno bene… Ho un sogno nel cuore… Io un sogno nelle chiappe… Non fare il rigore… Dobbiamo recuperare… Parti di bala… Mi ha spinto Luca… Fai scrivere… Luca… Fai scrivere… Fai scrivere… Nooo… Fai scrivere… Luca… Comporto familiare… Accetto l'ex… Ragazzi… Abbiamo ricordato uno… E l'anno due… E l'Inter… Ci dobbiamo aspettare… Bene… Lautaro… È vero… Comunque riesci sempre a regalarmi un po' di allegria e di sorrisi… E io di questo ti ringrazio… Un abbraccio… Un abbraccio… Grazie a te Ausilia… È proprio un capo d'amore… Ho detto che gli regali sempre un sorriso… Ehm… Come faccio a regalarti? È un… Dentista Kevin… Esatto… Non so se… Ti regalo un sorriso nuovo… Vieni da noi… Votturazioni alla metà del… Sempre presto… Come vado… Ti aiuto? Quella è la telefonina… Non è un dentista… E qui è bello… Anche perché… Kevin praticamente è come il dentifricio… Perdente… Guarda che gol ti faccio… Ma non lo farai mai… Non lo farai mai… Poooooo… Ficcione… Da 0 a 2… A 3 a 2… Il passo del corte è breve… E bu… Tu perché? Faremo solo la prima parte ragazzi… E lì… Continueremo la seconda… Se arriva Gennaro… Guarda che entro in gamba attesa… Bella palla schifosa… Ti stavo appena facendo… Oh Lukaku… Sono io… Te chi t'ha preso… Cioè io… 100%… Ma aspetta… Corri rosso… Corri rosso… Corri rosso… Mami che applaudono… Mami che applaudono… Mami che applaudono… Non mi piacciono questi interventi… Non mi piacciono questi interventi… Non mi piacciono questi interventi… Non duri… Nel secondo… Passa la… Sei un tutto calco… Hai detto? Sei una… Guarda… Era tutto calco… Sei una… Ma era barella… Anche poi si è tutto calcolato… Io però l'ho fatto lateralmente… Non c'entra… Era calcolato… Io… Ti prendo il bastone… Della… Della… Coppa… No… No… Non mi piace… Ma si… Dicono le parolacce… Ha detto una parolacce… Levala… Levala… Sei un vincente… Bicipite… Bicipite… Anche un vincente Kevin… Perde tutto… A caro che ti ride… Comunque ascolta… Tanta ausilia… Anche noi la ripidiamo… Arriviamo a gennaio… E poi finiamo la seconda parte… La prossima settimana… Dove vai? A noi non ci piace cantare… Guarda che ti ho dato… Ma guarda che ti ho dato… Ma guarda che ti ho dato… Di 1200… Hocizo all'eco… Divevamo con la zona…. Un somma ancora tra le due… Tu sei lì, tu sei lì, tu sei la più… OOHH… Ma guarda che mi fanno godere… Oh… Giorgizzi eh Mi senti… C'è una fiicca, è una fiicca, ma guarda qua, oh non ti rompe la gamba, oh ma perché fate stessarti da grilli, da grilli, ok, 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 ah grazie, stiamo provando a far vincere qualcosa la Roma, abbiamo deciso di provarci, per ora, insomma, quant'abbiamo perse? Una, mi sembra, come due, quant'abbiamo perso, tutto il fame, l'ho lasciato un attimo che ho chiamato la commercialista, comunque non siamo messi male in campionato, in Europa lì. Guarda che gol con Walker, perché Walker cammina, l'hai capita? E quindi è normale che fa gol. Walker texavager, Walker texavager, Walker texavager. E poi il campionale! E dove stende il dentro? No, il porta, il tende è il porta, ragazzi, il tende è il porta. Non so di avere il tende è il porta, però poi... Te le tronco le gambe, scusate, questo, questo è questo? No, no, dovrebbe avere ancora tutto al gusto, se si svuota con il teatro, giallo. Porzpirazzo! Sempre lui, va levato, va levato. Sono arrivato per Spirazzola. se te lo abbraccia poi! Vai, il Kevin, vai così! Vai così! Vai così! Vai così, pellegrini, vai così, vai così, pellegrini, vai così! Vai così, pellegrini... Ma guarda che è la carta lato, bro! È smolding! Non prendere in giro! Ti ha avuto Kevin da basella! Ma in realtà è rimasto ancora un giocatore con il suo giocatore! Oh, aiuto! Ma non ce la vediamo! Se non lo vedessi, Kevin con il pigiama, con la pancia di forno, con il sedere di... E con il pisello, dico! Ah sì, gli stavo facendo una scivolata! Oh, mi sono fatto malissimo qui! Oh, perdite! Mi stavo controllando qua! Guarda, cos'è successo? Guarda, colco Smolding! Ok, capito, torna un po'. Non ti importa, ragazzi! Non ti importa, tornate tutti indietro! Tutti indietro, tornate tutti indietro! Tornate, anche Lukaku porto indietro, guarda! E poi Smolding la mette? Smolding che ha i piedi... è un ferro da stiro! Te l'ho detto! Ha i piedi da stiro! Mi sono detto che è in mezzo! A me è proprio lì dentro! Che sei? Che puoi, che puoi, che puoi! 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 Faccia la rima! Ah! Pasta, passa, guarda che gol che faccio! Mi ha dato tempo! Fa cacca! Oh! Ci sa cinto minuti! Quanto manca? Ah! Quanto manca a gennaio? Intervista a posto... Oh! Quanto manca a gennaio? Io mi gratti il sedere! Vediamo un po' quanto le rimaste! Cioè... non mi sto grattando il sedere! Allora, non stanno! Fai l'intervista! Vedete l'intervista! Oh! 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 Ma manca c'è! Perché tu sei andata a scuola? Sì! Andiamo! Scuola entra! Oh! Se c'è... Se c'è il bromone io ci vado! Oh! Grattino! Vieni, vatti il sederino qua! Vabbè, siamo in là! Eh! Ma che cosa che giocavo? In che mese siamo? Lasciamo andare il mese! Lo ringraziamo! Lo siamo un po' a febbraio! Cioè, sta finendo la scuola! Siamo quasi a giuno! Ci mancano tre mesi! Due mesi! Novembre! Dicembre! Dopo dicembre cosa c'è? Cosa siamo? Dicembre ora? È l'ultimo mese! Io... No! Dopo dicembre! No, è finito! No, è finito! Scusate, siamo a novembre o dicembre? Novembre! Lecce! Sì! Allora io faccio così! Eeeh! Ciupacup! 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 Ok, ora che abbiamo? La coppa! Il Pippega! Oh! C'è il Pippega! Mi fido di voi! Mi fido di voi! Mi fido di voi! Oh! Grattino! No! Consiglio di voi! Vai! Aia! Ah no! Il 9-11! Non ce la facciamo! Mi sa che si fa prima di gennaio! Vabbè! Come vi ci ho presso l'osso? Quando è presso l'osso? Scusate! Adesso! Abbiamo giocato? Eh... Ha fatto la simulazione! Metti a quattro! Metti a quattro! Metti a quattro! Metti a quattro! A quattro! A quattro! A quattro! Scusate! Vediamo di velocizzare! Speriamo... Lazio! Oddio! Falla iniziare loro in caso si entra in campo! Eh... Il derby questo! I difficili ci tengono! O metti Angelino! Sono stanchi! Sono stanchi! Ti metti Angelino! Al posto di Spinazzola! e poi metti... Ascolta! Azimuno! A posto di Lukaku! E poi metti... No! Non fa male la schiena! Vai! Non fa male la schiena! No! Si fa questa e poi si chiude! Si fa questa in diretta e si chiude! Si fa male la schiena! No! Perché così si continua i giochi di venerdì! Facciamo questo ragazzi! Non fa male la pantera! Non so chi è rimasto, chi è rimasto avrà la freddura finale, sennò siamo in sei, ma due ore in passato, dove sto in giro? Neanche Kevin va, ma non va neanche Kevin a scuola, tra un po' ora. Non ci vado. Potete giocare se vuoi. Giochiamo a Brainstorms e a Rocket League. C'è Marco finita questa, te la passo crossa. Allora giochiamo. L'arbitrator. Allora ragazzi, a Marco non piace più Rocket League. Sai che a Marco non piace più Rocket League? Ma come non è buono? Perché non è buono. Boh, credo di sì. Un po' di gioco. Dai, ma ci sono anche entrato dentro. Asmoon. Ma non mi ha chiusi i palci, sono entrato dentro. Dicevo, mi sa che solo Mariella e Marco si entrano nella freddura finale. E altri quattro, credo. No, altri tre. Anzi, ho deciso, farò una partita diretta. Corte. Però io non ci sarò. Comunque è una partita difficile questa, eh, nel derby. Angelino? Oh, Angelino! Non va al posto a Spinazzola. Angelino? Proverà tutto. Palla per Casale. Casale! Perde palla! Asmoon! Fa schifo! Bro, ad Angelino che? Che proverà la bomba! No! Io ci sono sempre! Ho sbagliato tasto! Grande! Asim... 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 Ma te, Mariella. E' che sono... Concentrato qua. Marco lo chiamo Margherita? A te ti chiama Ausilia. Cosa sta facendo? Era calcolata! No, stiamo vincendo! Eh, eh, come? Non c'ho voce! Gò! almeno non parlo. Ok. Non è fallo. Di valla! Paolo! La mette all'agonino. Lazio sotto Diugo. Palla per Guendozzi. Guendozzi per Cataldi. Cataldi. Vedete il catalizzatore? Le dà per Castellanos. Castellanos che se ne va a direzione! Paolo! 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 Paolo ha vinto il mondiale con l'argentina. Gli hanno tirato la palla qui. Lo sai? Proprio qua. Gli hanno rotte. Tu lo sai? Gli hanno tirato la palla. Paolo ha tirato la palla. Si può restare? No no. Ormai si chiude giocando. Ormai si chiude giocando. Venerdì. Venerdì. Faremo la seconda parte. Poi vediamo se vinciamo qualcosa. Popo? Paolino! Paolino è tutto campo! Popo, sono sincera, devo fissare! Dobbiamo fare... Oh! Che palla ti ho dato, Asmù! 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 Fai gol, dai! Asmù! Asmù! Che non farvi piangere! Asmù! Fai gol! Parà, vin! Barà, vin! Barà, vin! Parà, vin! Parà, vin! Bara, vin! Cià, ciò! Come quanto bene? però ci c'è alla fine però alla fine e parla di me ma chi è il mobile? non sai perché te lo dico il mobile che ha 93 anni volevo vendercela una cifra spropositata 40 milioni però avrò 85 che cacchio di palla ti ho dato? mamma mia non posso sbagliare sei tutti noi che è passato? che cacchio di chi ha sbagliato? ma la realtà mi hai rubato al fai per un mfc abbiamo pensato la stessa cosa aspetta chi è che erano morti? guarda di palla poverino bambino guarda cosa faccio lui guarda cosa faccio metto Angelino metto Walker metto Christensen vediamo un po' vediamo se ne ce fa gol in minuto a Non è ma no, così... No! Cinque cellulari nella tutta colbe... Ok? Ok. Quando mi chiamavi bro... Eh, non è copyright perché era... No, me l'ho però... E' appunto non è cancellato? No, un corne... E' la stessa cosa... No, me l'ho... Come si chiama? Non è un corne... È un cor... Guarda! No! Però giocate un minuto... Da solo? Ma se faccio vedere come si fa... Ti attaccò... Kevin... Kevin l'ho lasciato... Quarto d'ora di finto tempo... Da solo... Aspetta, ma tu devi anche riprendere palla... Esatto! Ah, devi anche riprendere palla? Sì... Da solo... Quindi se... Se lo prendo con un difensore mi tocca andare ad attacco con lo difensore? Esatto! Vabbè, ma Mancina ha già fatto tre gol nelle ultime tre partite... E' come essere attaccante... Tu non sai tirare... Sbagliato... Ah, qua c'è lei... Ha tutta l'ora... Vedi... Marco Vera ne ha stata gol perché l'aveva rubato... Lo troppo! Lo troppo! Lo troppo! Mirence io... Non c'è lei... Oooo, Mr horseradei! Ti amasserò! E TU LO SAI! 5 CRN è stata gol per pinno... Guarda un po' di gioco, bello. Ma hai spaccato il joystick. Guarda cosa c'ha. No, non mi faccio il pizzerino grande. Chi sono? Debrai. Uhhh! Perché ne hai presa la cosa? Lo sbagli. E non te la darò mai. No, ma sei un gran figlio mio. Ah, non d'attacco! Brava madre lui. Ah! Fatina! Che sfiamma. Ma ne ci provvede lui. Ah, passa, passa, io sono un bravo amico. Ma forse lei faceva. Ma santo! Vediamola! Mi sei fatto fare il fenomeno a Portieri. Dai, passa, ma sono bravo io. Eh, sono bravo. Senti. Dai, sei qua, dai. Ma no, la tiri in faccia. Avanti, lo so. La tiri in faccia, me lo stendi. Per poco, te lo volevo stendere. Ma sei autopassata. Esatto. Era quello che mi impettevo, forse. Oh! No! No! Così! Che finale disastroso. E il derby va per 5-1 alla Roma, che asfalta la Lazio. E... No. Quanto farlo? Prosto. No, mamma mia, era lusso se... E' il lavoro. Allora, mentre... Non hai pigiato! Ma si deve fare il posto. Ah, mentre che mi fa così, ti rilascio con la mia attenzione finale. Siamo qui con il mister che ringrazio per aver accettato il vostro libro. No, si chiamerò. Oh, 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 oh. Allora. Sì. Diretta 8. Allora. Ma che... Diretta... 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 No, sei te, non so! Ma se sto sfidaforando... Allora. Non mi fido! Non mi fido io! Spero... allora questo siete pronti tutti e 1 per questo papi ma non c'è questo vittorio facciamo il trascendere la voce ahahah l'ultima doppia se volo un mondo per il porto per il gran finale aspetta per il video 8 stanno guardando ora che faccio la fredda non c'ho più la voce l'orecchio è una voce l'inizio della roma e mi fai vedere la classifica per far vedere come siamo messi siamo primi a due punti sul milan mi pare che abbiamo vinto tutto ok siamo che abbiamo perso l'unica partita con il lecce che dopo quando abbiamo vinto salvavano bene perché poi non vogliamo fare come l'altro che l'abbiamo perso no è che lui non lo vuoi intanto puoi anche andare avanti quando siamo arrivati siamo arrivati a dicembre sì lì sei uno di noi allora Kevin vi spiego una cosa ho pensato a questa qui quando Kevin sarà grande su mamma entrerà in camera scommetto quindi entrerà in camera lei dirà a suo figlio questo è il più bello del mondo dai spieghi è le 10 devi andare a messa no l'ho già messa e lui no mamma ho 50 anni io non voglio più andare in chiesa e la mamma gli dice ma non te l'ho mica devi fare il prete non l'ho capito cioè ho capito che cosa è il prete e l'altro è una messa però il problema è che è un prete quindi non è che non la voglio andare a messa devi andarci per forza chiedo scusa a Kevin chiedo scusa a Kevin nooo ciao a tutti sta là nooo si nota tanto nooo gli altri tutti i 15 anche un macchino è vero ebbè gli stiamo facendo fare un bel lavoro grazie a tutti martedì c'è un bel video ma è musicale in cui ve le faccio lo spoiler è sul nostro mondo dove si farà una nuova skin di un youtuber famoso davvero? e poi venerdì si fa il conto ma quando? shh 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 tu dormi ancora shh shh ragazzi è stato un piacere un dispiacere spero che non vi sia fatto un sorriso ma la nostra squadra vale 600 milioni ci siamo forti nooo vale 200 milioni rap quindi adesso Kevin può staccare lui la live perché se non lo fa lui noi staremo qui tutto il giorno ci sentirete mangiare ci sentirete a fare pipì scudenziale ciao ragazzi ciao alla prossima ciao 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 ciao